E' chiaro che quando si procede all'autorizzazione all'arresto non è mai una scelta semplice. Tuttavia le carte che abbiamo letto, il sistema affaristico e clientelare che attorno al Mose ha determinato una punizione nei confronti di un'intera popolazione, sia sul terreno ambientale sia sul terreno morale, necessitavano di una risposta e di un orientamento. Per questo abbiamo votato a favore l'autorizzazione all'arresto dell'On. Garani.